Eccoci di nuovo su Squadbusters, oggi notizie gigantesche, infatti il video di oggi esce ad un orario un po' strano perché la news ragazzi è veramente veramente assurda Infatti in questo periodo un po' morto di Squadbusters stanno arrivando le notizie perché ormai ragazzi già siamo quasi a metà novembre Mamma mia il tempo passa velocissimo e ragazzi tra poco o meglio tra pochissime settimane e giorni dovremmo iniziare a parlare del nuovo update di Squadbusters Solo che oggi ragazzi abbiamo una news soprattutto riguardo alle rank, riguardo alle nuove modalità e riguardo a tutto quello che riguarda il prossimo aggiornamento di questo bellissimo gioco Prima di iniziare vi chiedo sempre solo una cosa, like, iscrizione e campanellina per fare altri contenuti quindi grazie mille per chi lo farà, per voi grazie ma per me è fondamentale Intanto questo è il mio account, siamo a livello 160, me ne mancano 20 per arrivare di nuovo alla Lega delle Squadre Non sembra essere difficile perché qua finisce tra 40 giorni ragazzi, cioè io ho il tempo, ne ho tantissimo per finirlo Il pass finisce tra 21 giorni, sono a livello quasi 10, devo arrivare mi sembra al 30 quindi non dovrebbe essere per niente difficile Lo faremo per niente tutto nell'ultimo giorno come al solido Per il resto qua abbiamo qualcosa da shoppare, il pass lo dobbiamo acquistare Tutti livello 3, tan per il nostro bocio, il mio account sta procedendo tranquillamente, non sto giocando troppo dopo cerciamo una partita Ma andiamo a parlarvi di questa news Infatti in questo periodo sono uscite delle news riguardo a Squadbusters Cina Per chi di voi si stesse chiedendo di cosa si tratta, che cos'è, di che parla È la versione cinese di Squadbusters Attenzione perché è una versione totalmente diversa, con gameplay diversi, modalità diverse O meglio, ci sono tutti i personaggi uguali, il gioco in sé pressa alle stesse meccaniche Però ci sono alcune cose che Squadbusters globale non ha Ad esempio, nuove modalità Infatti Squadbusters Cina aveva già le 5 contro i 5 di cui avevamo parlato qualche mese fa in uno di questi video molto a molto belli Ma oggi tornano le news Dopo la chiusura di Squadbusters Cina perché vuole dire una specie di test Ora, sta per uscire globale Infatti sta avvenendo la stessa cosa che è avvenuta nel mondo globale, in Italia, ok? Pure in Cina in questo periodo Quindi il lancio con i download, le pre-registrazioni, con questa statua messa in palio Quindi le solite cose che noi già in Italia, in Europa, in America, nel mondo, a parte la scena abbiamo visto Stanno succedendo adesso pure in Cina Con un ritardo presente di 5 mesi Perché questo? Beh ragazzi, perché in Cina Squadbusters vuole rilasciare il gioco completo Come avrebbero dovuto fare pure qua Certo ragazzi, sarebbe stato utile rilasciare il gioco come è fatto ora Sarebbe stato molto a molto fatto meglio Ma va bene Quindi, considerando che c'è la pre-registrazione di Squadbusters Cina in Cina Magari in un video prossimo vi spiego come scaricarlo o quando uscirà globale Stanno succedendo delle cose Infatti si stanno parlando delle aggiunte dentro questo Squadbusters Cina Di quello che sta entrando Oltre le 5 vs 5 che già conosciamo Abbiamo avuto un annuncio Di cui le fonti, ragazzi, per me sono davvero sconosciute Non so da dove vengono Nel dubbio, vi dico, siamo nel canale Telegram Squadbusters Italia C'è in basso, come vedete, il nome di Telegram Se volete entrarci, sono bravi Non è una sponsor Però eccoci Ragazzi, qua la situazione cambia È davvero assurda Ovviamente, io ci faccio il video perché non è un leak Ora, ragazzi, se Squadbusters mi banna questo video Io arrivo a due strike Non voglio rischiare Cioè, io personalmente, ragazzi, non è che porto leak Queste qua sono le immagini di Squadbusters Cina Non è che sono cose in antebricone Squadbusters Cina Ora, ragazzi, se dovessero buttarmi giù pure questo video Quelli di Squadbusters Impazzisco Perché i leak io non li ho mai portati Cioè, ragazzi, leak per leak io non li ho mai portati Io ho portato i contenuti che escono Le 5 vs 5, per esempio, ragazzi Sono di Squadbusters Cina Non è un leak Cioè, è pubblico Come lo era lo scorso aggiornamento Che era uscito nell'App Store Ma comunque mi hanno bloccato il video E mi sono preso pure uno strike al canale Perché è super se non scherza Adesso, ragazzi Qua parliamo di Squadbusters Cina Abbiamo la traduzione sotto in spagnolo Nuovo mondo Nuovo rango Godiamocelo Per chi si vede questo video Spero che non venga bannato Se viene bannato, ragazzi Nel dubbio, lasciate un like Perché cose assurde Squadbusters Finiamola Comunque Abbiamo un'immagine interessante Partecipa alle partite E guadagna trofei Ragazzi, qua parliamo proprio dei rank rank Una modalità separata 5 trofei Raggiungi il tuo rango Migliore del tuo rango E ottieni un valore più alto Giocandole solo O le 5 vs 5 Quindi puoi aumentare le coppe Giocando alla modalità singolo O le 5 vs 5 Vi ricordo che su qua Squadbusters Cina Potrebbe cambiare O meglio al 100% Nel nostro Squadbusters Sarà diverso Magari il metodo di guadagnare coppe E partecipa alla classifica Per guadagnare coppe Interessante, ragazzi Perché questo qui è proprio Una rivoluzione Vediamo come Squadbusters Sta dividendo La modalità Della scala dei mondi Dalla modalità competitiva Dalla classificata E questo è molto buono, ragazzi Perché adesso avremo la possibilità O di giocare normalmente E di guadagnare i nostri Elisir O di giocare per farmare coppe Come la competitiva Di Brawl Stars O di Clash Royale Puoi scegliere E probabilmente funzionerà In questo modo Io lo spero Perché in questo modo Avrebbe davvero senso Cioè, ci sono quelli che rankano Avremmo magari il nostro momento In cui noi decidiamo di rankare Oppure c'è il momento In cui vogliamo solamente Scalare di mondi E di sbloccare nuovi personaggi Funziona Funziona E quindi continuiamo a farlo Mi raccomando, ragazzi Un bel like Iscrizione e campanellina Ora però abbiamo una news Ancora interessantissima, ragazzi Scendiamo un attimino Zoomettino d'attico Perché qua le cose Mica finiscono Abbiamo una classifica Una top Molto, molto interessante Infatti c'è la top Da 1 a 5 Come la top Che conosciamo tuttora Infatti entriamo su Squadbusters E ve la mostro subitissimo Quello che vi dicevo poco fa Dopo il 160 Ragazzi Probabilmente in futuro Non avremo più la Lega delle Squadre Cioè 160, 170, 180 La Lega delle Squadre scomparirà Probabilmente avremo altri mondi Oppure ci sarà scritto Continua Ma in aggiunta Arriverà tra poco Probabilmente la Lega delle Squadre Sarà un tastino a parte Una modalità a parte Nel tasto gioca Bello Molto, molto bello Comunque Andando qua nella zona classificata Eccoci qui Non vedremo probabilmente Più la top In questo modo Forse le coppe ancora si Però dipende da come funzionerà Tutto quanto Ma vedremo ragazzi Accanto il rank Il rank in cui ti trovi Perché si Si staranno i rank Saranno forse fatti pure meglio Rispetto a quelli che ci sono ora Saranno forse più accessibili Comunque ragazzi Avremo la possibilità Di giocare E aumentare di rank E andare avanti Quindi perfetto Quindi tornando a queste immagini Come vedete qua Abbiamo la possibilità Di vedere il rank Zoomiamo di nuovo E qua ragazzi C'è tutta un'altra storia Tutta un'altra storia Allora abbiamo Prima posizione Seconda, terza, quarta, quinta La grafica rimane lo stessa Probabilmente cambieranno in futuro Questo ancora non lo sappiamo Qua ad esempio Lui è a livello Non a livello Copp 80 Quindi ok E poi da questo lato Abbiamo delle cose Che non sono coppe Non sono Non sappiamo che cos'è in realtà Però abbiamo le iconcine Delle varie leg Delle squadre Della league Di squadbusters Ad esempio Il primo posto abbiamo lui Che dovrebbe essere Nella lega diamante Questa qui dovrebbe essere La più alta Platino Non so come si chiama Perché non ci sono arrivato E poi qua in mezzo Ci sono tutte le altre leghe Attenzione perché queste leghe Già esistono ragazzi L'unica cosa che non esiste È che si vedono E che funziona La modalità competitiva Come deve Perché ora come ora Sono buttate là Ma senza un vero scopo Senso un vero senso Da ora in poi Probabilmente avremo Questo numerino accanto Che magari sono le coppe Non credo O magari sono direttamente Il numero del rank Magari questo qua In qui In top 5 È gold 322 E deve arrivare magari A 1200 Per andare al prossimo Oppure semplicemente Ragazzi qua Sembra molto chiaro Forse ogni 100 Ogni tot Abbiamo un upgrade Perché come vedete qua 322 Abbiamo il gold Qua ad esempio 6 abbiamo bronzo O legno Qua 618 E 621 Hanno lo stesso rank Si aumenta invece qua Di 300 coppe E abbiamo il nuovo rank Quello verde Qua invece si aumenta Sempre di 200 coppe E abbiamo il rank Di diamante Viola Quindi Sembrerebbero dei punti Delle coppe Che si vanno a mettere assieme E si accumulano Quindi le coppe adesso Non vi fanno andare così Cioè coppe Accumuli coppe Basta no Vi aumentano di rank E potrebbe essere davvero Interessi Potrebbe essere il nuovo Squadbusters E attenzione Perché io ci credo tanto Perché adesso Ora come ora ragazzi Bisogna ammettere Questo gioco è messo malissimo Lo sappiamo tutti L'hanno detto pure altri Creatori italiani Siamo in un periodo Un po' di crisi Di squadbusters Ma ce lo aspettavamo Tutti quanti E in realtà questo gioco Non è che sia mai stato Un massimo momento Certo è che ci sono stati Momenti migliori Per questo gioco Momenti in cui aveva più contenuti Ad esempio Questo messo è stato Davvero davvero morto Anche se Stanno inventando metodi Per far tornare la gente A giocare Come l'evento della lava Per poter sbloccare I tre personaggi Nello scorso update Quindi Leon Posho Quelli che erano arrivati Nello scorso aggiornamento Con la map della lava Non quelli di adesso Non Posho Comunque Tutti quei personaggi Adesso li potremo sbloccare Con nuovi eventi Stanno mettendo nuovi giveaway Per regalare skin di Leon Stanno cucinando Ok? E ve lo sto a dire qua ragazzi Io ho sempre fatto Video su squadbusters Credo di essere stato Uno dei primi creator In Italia Si mi sembra di si Insieme ad altri super creator Ma fin da due anni e mezzo fa Praticamente Io credo in questo Cioè ci ho sempre creduto Altrimenti io non ci avrei fatto Così tanti video Solo che Ora come ora Il gioco non è al suo massimo potenziale E attenzione Perché io credo Che potremmo star Arrivando al momento Di squadbusters Magari non arriva dicembre Ma sicuramente nel 2025 Arriverà il periodo di squadbusters O almeno spero perché Se continuano con gli aggiornamenti Che hanno pianificato Con le idee che vogliono aggiungere Clan Modalità E più chi ne ha Più ne metta Secondo me il potenziale ce l'ha Bisogna vedere da come Da come se la giocano Perché Siamo che con gli ultimi aggiornamenti Hanno perso molta credibilità Soprattutto con l'ultimo Dove la gente si aspettava Di tutto e di più Ma ci siamo ritrovati Con davvero Niente ragazzi Era tutta Tutta una fakeria Cioè avevano detto È promesso Cose che non sono state rispettate Oppure quando il gioco era uscito Direttamente a giugno Quando era maggio Giugno Tutti chiedevano i clan Era stata la prima cosa Quando arrivano i clan E loro hanno detto Entro qualche mese Arrivano entro il 2024 Ragazzi Siamo praticamente nel 2025 Ed i clan Noi non ne abbiamo La minima Cioè non sappiamo davvero È qualcosa di sconvolgente Quindi Probabilmente O arrivano tutto adesso A dicembre ragazzi O se cucinano così tanto a dicembre Ed esce l'aggiornamento Con clan modalità E tantissime altre cose Di cui non sappiamo Riescono a fare una cosa del genere Io veramente ragazzi Faccio un video 20 minuti di applausi a Squadbusters Solo così 20 minuti di io che applaudo All'aggiornamento di Squadbusters Potrebbe essere Se è davvero bello ragazzi Io faccio un video del genere Ve lo prometto Segnatevelo Per 20 minuti Così a vuoto proprio Cioè capite Sapete tutto il mio dito No ragazzi Mi sta chillando Mi sta Oh Come si chiama questo No ragazzi Si chiama Smurf 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 Come è Puffo Puffo si chiama Non lo so ragazzi Un attimo No che qua la vedo malissimo Ma siamo messi male Ma Elite 1 Ok Pure ste cose Ma rendetelo più skillato Sto gioco Fate la possibilità Di mettere il deck Di dare la personalizzazione Del deck Un po' di gameplay Date un po' di gameplay Sensato a questo gioco Siamo settimi Allora la possibilità Di recuperare è molto alta Bello sto colonnello ringhio Era proprio quello Di cui avevo bisogno Filiamoci altre cosine qua Vai 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 Ingregone però Entro oggi Per cortesia Che la degli alberi Che ne abbiamo Un urgentissimo bisogno Ma stino la vico per noi Drago infernal qua Che lo stiamo per distruggere È il primo top Cerchiamo di non morirci Da sto drago infernal Un botto di gold Un botto di gemme Potremmo tentare Di andare centrali Però senza rischiare troppo Cassettina È un altro colonnello ringhio Lo amo ragazzi Perché mi dà la fusione Ogni volta È proprio un personaggio Broken il colonnello ringhio Prendiamoci un po' di gemmozze Siamo ancora settimi raga Oh il recupero qua è complesso Però non è impossibile Attenzione Non è Eh sì guarda qua però Se mi targettano Se mi targettano A quel punto ragazzi La situazione diventa molto complessa No 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 Dai dai su via Su via Qua manca sempre di meno Stai esplodendo al centro Ti prego ti prego Ok prendi tutto Ok ragazzi Sesti Quinti No Quarti bene 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 Quarti ragazzi Bisogna stare attenti Bisogna stare attentissimi Cerchiamo di resistere Ancora 3 secondi 3 2 1 Perfetto Quarto posto ragazzi Che giocatore che sono Che gran giocatore Finish Risultati E beh smurf è arrivato primo Però ok Classica partita Perché la prima win del giorno Noi continuiamo con la movie streak Che non stiamo proprio interrompendo Ragazzi si va continuamente Cassettina Oh Epico grandissimo Bello Bello Epico grandissimo Worka No ragazzi 8 Questa qui è stata Mamma mia che lusso Mamma mia Ragazzi Mi è andata benissimo 32 curatrice guerriera Ho skillato Ho skillato davvero Cioè ho skillato Oh Mi è andata di bene Mi è andata davvero bene Allora Livello 161 Un altro bauletto epico Comunque in realtà Basta giocare una volta al giorno Ragazzi E si arriva subito La lega delle squad Ottimo Colonnello ringhio Noi ci facciamo un upgrade No Solamente la nostra curatrice guerriera Oh 4 upgrade Comunque Non c'è male Bauletto comune Diventa comune grande Apriamolo un pochettino Dammi del bel contenuto 5 mercanti E il potenziamento Sì Bene Dai che stanno arrivando qua Oh raga Molto vicino Molto vicino Siamo pure qui Dai eh Il prossimo ultra Detto ciò Io spero che questo video vi sia piaciuto Un bel like Iscrizione e campanellina Vi tengo sempre aggiornati Guardate i video che sono appena su accanto E su più dell'altro Fate la potenza su portarmi E ci vediamo in prossimo video di squadbusters Ciao ciao Ciao